ciao ragazzi oggi commento un video di radio radio in cui fabio duranti commenta un articolo di giornale di uno dei grandissimi giornaloni italiani tipo la repubblica o il corriere adesso non mi ricordo quale fosse nel quale si parlava della storia di una ragazza di acqua viva di 33 anni emigrata in finlandia e che diceva nell'articolo di essere felice sia dal punto di vista lavorativo che personale e che ritornerà in italia solo da vecchia da anziana non mi ricordo se aveva usato questo termine o da esperta insomma da vecchia da pensionata allora fabio duranti dice ti auguro il meglio ti auguriamo il meglio per la tua vita ma statene là rimani là perché non abbiamo bisogno di persone come te che abbandonano adesso sto parafrasando non è non posso qui raccontare tutto tutto il video ma in sostanza che abbandonano la nave mentre affonda invece di fare del loro meglio per rabberciarla quindi secondo lui le persone emigrate quelli come noi perché anche io sono emigrato dovevano rimanere in italia a mangiare pane e cicoria per citare rutelli e a sputare sangue per per due spicci per rabberciare questa nave che affonda non si non si sa come poi non si sa come perché ragazzi le armi sono state vietate perché capite che intendo allora la situazione non è recuperabile poi oltretutto io dico non è tanto colpa di noi ragazzi che emigriamo perché vogliamo qualcosa in più dalla nostra qualifica la colpa è di chi ha organizzato questa migrazione perché è vero dice anche fabio dice vabbiamo fatto studiare vabbiamo pagato gli studi e voi ve ne andate a dar manforte a queste multinazionali in giro per il mondo è vero è vero ma la colpa non è la nostra questo sistema è stato ben studiato l'italia infatti infatti è una grossa fucina di persone altamente qualificate perché che che se ne dica l'università italiana è forse la migliore del mondo a parte quelle ultra strapagate quelle private statunitense e anche credo in confronto a quelle la preparazione degli ad esempio degli ingegneri italiani dei matematici italiani credo sia superiore la difficoltà anche del liceo italiano rispetto alla high school al college americano è incredibilmente maggiore incredibilmente maggiore è italiano ma europea in generale se vogliamo ho un collega spagnolo che che giustamente ha fatto un paio d'anni in america come esperienza di studio dice io io non ma io e il mio amico polacco risolvevamo i compiti in classe di matematica come se fossero dei compitini delle elementari perché per noi lo erano e questa è la verità noi siamo stati preparati preparati per essere manovalanza delle multinazionali alla colpa però fabio non è la nostra tu lo sai bene questo è un sistema che è progettato a tavolino la migrazione di persone come noi è progettata a tavolino come quella che sta avvenendo di altre persone da paesi più sfortunati del nostro verso l'italia quindi c'è questo movimento è progettato allora non ce la prendiamo con la ragazza di bari io spero per la ragazza di bari di tornare spero le auguro le auguro di tornare in italia anche prima della pensione come ritengo alla fine torniamo tutti io io sono già stufo di stare fuori ma ovviamente al momento è difficile tornare sapete perché a un certo punto uno capisce che i soldi non sono tutto i valori sono altri però bisogna passare per l'esperienza di vita di provare a vedere se veramente è importante il lavoro se sono importanti i soldi guadagnare bene io adesso ho capito quali sono le cose importanti nella vita e sono pronto a rientrare in italia e vorrei fabio che la cosa non ti infastidisse perché io tornerò e molti di noi tornano perché alla fine la nostra il paese il tuo paese è quello dove è la tua gente quindi abbiamo il diritto di fare questa esperienza all'estero abbiamo il diritto di tornare quando vogliamo e abbiamo il diritto di non essere criticati perché la colpa di questa migrazione non è la nostra ciao a tutti